Questo progetto di legge nasce sbagliato nella forma e nel merito, intanto perché avrebbe dovuto essere attuato con un provvedimento amministrativo da parte della Giunta e non con un progetto di legge appunto. Si disattende la legge dello Stato e le leggi regionali che volevano un'intesa con gli enti locali e con il Cal, cosa che non è avvenuta, e non c'è alcuna disposizione finanziaria, cioè non c'è la copertura finanziaria. In audizione abbiamo scoperto che la copertura finanziaria non c'è, perché molto probabilmente ci saranno dei tagli molto ingenti, a detta del Presidente di Tua, sui servizi minimi di trasporto pubblico appunto, che vanno da 800.000 a 1.200.000 km. Per cui, come al solito, anche il Governo di Centrodestra taglia i servizi nella totale mancanza di programmazione. Abbiamo chiesto quali saranno le tratte di questo milione di chilometri che verranno tagliati. Ancora non lo sanno, non hanno saputo risponderci, perché il programma di ridimensionamento e di razionalizzazione non lo hanno ancora fatto. Grazie. Grazie.